Il futuro vuol dire intanto futuro per il paese, non esiste un futuro del mezzogiorno disgiunto da quello del resto del paese, anzi noi siamo convinti anche come Svimez che occorre chiedersi cosa il mezzogiorno può fare per il futuro dell'Italia. Noi pensiamo che ci sono alcune diretture strategiche dello sviluppo dei prossimi anni che riguardano innanzitutto l'economia verde, la logistica, il Mediterraneo, sono tutte opzioni che dipendono e passano per il mezzogiorno, quindi senz'altro ci sono prospettive per il mezzogiorno e ci sono prospettive per l'Italia, è chiaro che tutto è molto collegato a un cambio di passo nella politica nazionale e nella politica locale, al centro di tale strategia non possono che porsi i giovani nel mezzogiorno, i dati che abbiamo citato oggi di emigrazione continua dei giovani soprattutto lavorati dal sud è un dato preoccupante perché quello sì che è un pezzo di futuro che se ne va e su quella generazione ci giochiamo le possibilità di crescere nel futuro, però credo che anche le giornate come oggi servono a costruire una strategia paese che faccia del mezzogiorno realmente un motore interno dell'Italia.